Torna l'ora solare in Italia. Tra oggi e domani si saluterà l'ora legale spostando le lancette dell'orologio indietro di 60 minuti dalle 3 alle 2 facendoci guadagnare un'ora di sonno ma avremo anche giornate più corte. L'ora solare resterà attiva fino alla notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 quando si tornerà all'ora legale con l'arrivo della primavera. Dopo questa data gli stati membri dell'Unione Europea dovranno decidere se mantenere i consueti cambi dell'ora o una delle due considerando che il mantenimento dell'ora legale per il nostro benessere psicofisico sarebbe la scelta più appropriata. Secondo il CNR il cambiamento seppur minimo porta il nostro organismo nel suo insieme di corpo e mente a dover affrontare un mini jet lag. Il riassestamento durerà dai 4 ai 5 giorni. Chi ne trarrà aggiovamento invece saranno i gufi ovvero coloro che tendenzialmente si addormentano tardi nelle ore serali. La variazione anche solo di un'ora nel passaggio all'ora solare porta ad una modifica delle secrezioni di ormoni ad alterazioni della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Nei giorni seguenti al passaggio potrebbero essere avvertiti lievi disturbi come il mal di testa, stanchezza cronica, disturbi dell'attenzione e della concentrazione. Non si escludono i disturbi del sonno prevalentemente caratterizzati da un risveglio anticipato. Ovviamente tutto ciò sarà carattere transitorio prima che anche questo passaggio dell'ora diventi abitudine per tutti.